Il prossimo 4 maggio si prevede un ritorno di massa dal nord Italia verso le regioni del sud. Con la fine del lockdown, in molti bloccati a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della diffusione del coronavirus, hanno la possibilità di rientrare nei luoghi di domicilio e residenza e possono spostarsi, nel caso specifico, verso la nostra regione per motivi di lavoro o di salute. In tanti preferirebbero che si evitasse questo rientro, ma c'è da dire che si tratta di persone rispettose dei decreti che hanno scelto nei mesi passati di preservare i loro familiari e le comunità di appartenenza, evitando di ritornare a casa, ad esempio con l'esodo di massa dalla stazione di Milano dello scorso 7 marzo. In merito il governatore Campano, che ha imposto per chi arriva in campagna da altre regioni di segnalare il suo ritorno alle autorità competenti, ha rassicurato di aver avuto ieri un colloquio con il ministro dell'interno Luciana Lamorgese, in relazione al previsto esodo del 4 maggio e dei giorni successivi. Ho espresso fortissima preoccupazione rispetto al fatto che arrivi di massa ed incontrollati possano determinare espansione del contagio e vanificare i sacrifici fatti per due mesi dai nostri concittadini, ha detto De Luca. Ho chiesto al ministro che il governo nazionale ribadisca che gli arrivi da altre regioni dovranno essere motivati da ragioni di lavoro o sanitarie o comunque autocertificati. Per quello che riguarda la campagna rimarrà fermo, continua De Luca, l'obbligo oggi vigente per chiunque venga da fuori regione di segnalare all'asle di competenza il proprio arrivo, così da poter procedere a controlli nei 15 giorni successivi. Invito fin d'ora i sindaci a segnalare alle asle e alla regione gli arrivi nell'ambito dei propri territori. E questa è una funzione essenziale, rimarca il governatore Campano, per consentire di tenere la situazione epidemiologica sotto controllo. Confermo che saranno mantenuti controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie ed ho sollecitato il ministro ad esercitare analoghi controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni di partenza.